Morti l'uno per salvare l'altro, il padre per soccorrere il figlio, il fratello più grande per aiutare il più piccolo, vivo per miracolo. Finiti in un tombino per la raccolta delle acque di scarico che dovevano ripulire dai liquami. L'ennesima tragedia sul lavoro si è materializzata in un'azienda di prodotti ittici nella zona industriale di Molfetta. Ironia della sorte, a poche centinaia di metri dall'autolavaggio Truck Center, dove il 3 marzo del 2008 morirono cinque operai uccisi dalle salazioni di acido solfidrico che si prigionarono all'interno di una cisterna che dovevano lavare. Si chiamavano Nicola Rizzi di 50 anni e Vincenzo di 25, originari di Bitonto. In ospedale ci è finito Alessio, vent'anni il primo, che si è calato per cercare di recuperare il tombino con cui chiudere il pozzetto. Molto probabilmente nel sollevare il coperchio ha perso l'equilibrio e il coperchio è andato giù. Questo pur per poterlo sollevare ci è caduto prima lui. Il padre si è buttato per salvare, riuscito a sollevarlo, il padre è rimasto e l'altro fratello si è buttato per poter sapere in pace, è rimasto pure lui. Omicidio colposo, l'ipotesi di reato con cui procede il magistrato dalla procura di Trani Mirella Conticelli che ha disposto l'autopsia sui cadaveri dei due operai che sarà effettuata giovedì prossimo. Le vittime potrebbero essere morte a causa delle salazioni o per annegamento. Probabilmente c'è stato un atteggiamento un po' incauto da parte purtroppo delle persone intervenute da Bitonto, la ditta di Bitonto, occuparsi dello spurgo però ripeto veramente siamo in fase di accertamento su più fronti. atteggiamento un po' incauto.